Ciao ragazzi, io sono stefanologhi97, oggi video su cosa ne penso della copertina del libro di mangaka 96, vieni con me a tokyo In questo video vi dirò la mia su cosa ne penso della copertina del libro di mangaka 96, ovvero vieni con me a tokyo Ma a parte quello, partiamo subito col video La copertina di vieni con me a tokyo oltre a essere triste è anche senza dubbio una delle copertine più brutte che abbia mai visto Come se lo avessero fatto in 5 minuti su word o publisher, non su quelli nuovi, su quelli vecchi in stile office 2000 In più la frase viaggio nei luoghi nell'atmosfera di manga e anime sono scritte in piccolo che può anche essere un problema per chi ha problemi di vista Ma la cosa che mi fa storgere il naso è chiami il titolo del libro, vieni con me a tokyo Tra l'altro presa con la scritta in word art con colore rosso con cambio di carattere Metti per esempio un monumento famoso, per esempio la famosa Tokyo Tower Magari anche in versione anime o manga E invece no, hanno messo la foto della scala di Your Name Tipo, faccio un esempio stupido, faccio un libro su un viaggio a Roma e anziché mettere la foto del Colosseo che è uno dei simboli di Roma Metto come foto la scuola della Roma, un esempio stupido E non è finita, la prima pagina della copertina del disegno l'ha fatta Mangaka 96 Finalmente è terminato, la parte è disegnata in cover mentre l'ho disegnata io E più che un disegno non l'ho affatto Ebbene sì, si tratta di un fotomontaggio Già di disegno ha fatto solo la tizia che assomiglia parecchio Ranjiku Matsumoto di Bleach Con tanto di abito scolastico con quasi identici Al posto di Sebastiano Serafini Quindi Mangaka 96 cosa ha fatto? Ha preso la foto in questione di qualche anno fa Ha tolto Sebastiano Serafini Ha messo la tizia disegnata con tanta attenzione ai bordi Ed ecco qua, giochetto fatto Del retro invece totale tristezza Con solo scritte e bandiere giapponese con la scritta Tokyo Sul finale di discorso, la copertina di Vieni con me a Tokyo l'ho trovata molto brutta Fatta molto velocemente Zero impegno E soprattutto, secondo me, è una delle peggiori prime pagine che abbia mai visto E fin qui ho detto di cosa ne penso della copertina di Vieni con me a Tokyo Il libro di Mangaka 96 Cliccate su iscriviti e cliccate anche sul campanello per le notifiche per non perdere ogni mio video che faccio su YouTube Inoltre, se vi è piaciuto il video, cliccate su un bel like Inoltre, in descrizione troverete i link del mio canale Instagram E il link per entrare nel mio fantastico gruppo Telegram E il link del mio canale Twitch E soprattutto anche, sempre in descrizione E il link del mio canale TikTok Che in quella piattaforma farò ogni video ogni sabato Ci vediamo ad un prossimo video Dal vostro Stefano Maghi 87 Ciao